A farsi portavoce dell'allarme sui contagi all'ospedale di Cattinare, in terza commissione, il consigliere del gruppo misto Zalucar, più volte medici del Dipartimento di Medicina e sindacati hanno segnalato la condizione di promiscuità tra pazienti Covid e non e la mancanza di percorsi separati, ma troppo poco sarebbe stato fatto, ha rimarcato Zalucar, evidenziando che questo avrebbe causato decine di contagi negli ultimi quattro mesi tra i pazienti non Covid e della struttura. La questione arriverà anche in Parlamento, con un'interrogazione annunciata nei prossimi giorni, mentre già ci sarebbero degli esposti, un allarme che l'assessore alla salute Riccardi ha cercato di smorzare con le parole del direttore generale di Asugi Poggiana, secondo il quale tutto sarebbe invece sotto controllo. Nel corso dell'audizione, frizioni tra Riccardi e il consigliere del PD Conficoni, che ha chiesto conto dei minori tamponi e tracciamenti nell'area pordenonese, rilievo al quale Riccardi ha risposto rimarcando che l'andamento delle indagini va considerato in relazione a quello del contagio, che ha colpito maggiormente alcune aree della regione. dove è stata necessaria un'attività superiore. Zaluc ha raposto anche il problema della penalizzazione economica dei medici di area triestina rispetto a quelli dell'Isontina e del mancato ricambio dei primari coi reparti che si trovano da anni retti dai facenti funzione, criticità confermate da Riccardi con l'impegno a risolverle.